signori buongiorno e bentornati sul canale del mastercard io sono il mastercard il vostro ospite su questo canale nello scorso video del d20 system abbiamo detto quanto sia importante il grado di sfida per gli incontri in questo video cominciamo a vedere esattamente che cos'è il grado di sfida e come lo si calcola e vi annuncio già queste sono le cose che normalmente fanno esclamare a chi prende per la prima volta in mano il manuale del master ma questo non è gioco di ruolo questa è matematica cominciamo come sempre alle basi andando a definire il grado di sfida il grado di sfida è quel numero che va a definire quanto sia difficile un incontro e quanto sia complesso superarlo rispetto agli altri incontri più è alto il grado di sfida più sarà difficile superare quell'incontro in pratica è un numero che descrive quanto forte è il mostro quanto forti sono i png che formano l'incontro ad esempio una viverna un grado di sfida 6 sarà più difficile da uccidere rispetto a una cocatrice con grado di sfida 3 e più facile rispetto a un gigante del gelo con grado di sfida 9 un gruppo di avventurieri standard cioè formato da quattro personaggi un incantatore arcano un cantatore divino un personaggio a combattimento e un personaggio abile dovrebbe poter superare un incontro con grado di sfida pari al livello medio dei personaggi di quel gruppo utilizzando non più di un quarto delle risorse deperibili a disposizione del gruppo nel concreto diciamo che un gruppo formato da un guerriero un ladro un malmo e un chierico tutti di sesto livello dovrebbero poter sconfiggere una viverna sempre il grado di sfida 6 utilizzando solamente un quarto delle loro frecce delle cariche delle loro bacchette delle loro pozioni e dei loro slot di incantesimi e perdendo solo un quarto dei loro punti ferita totali o subendo un quarto dei danni alle loro caratteristiche in parole povere diciamo che un mostro che ha grado di sfida pari al livello medio del party è un mostro facile da superare per quel party fate attenzione al fatto che si parla sempre delle risorse deperibili totali per il party e quindi perfettamente lecito che un incantatore debba utilizzare metà dei suoi slot di incantesimo e l'altro incantatore non ne debba utilizzare nessuno o che un personaggio debba utilizzare tutte le sue pozioni e nessun altro personaggio le utilizzi una cosa del genere potrebbe sembrare strana in combattimento in realtà però è perfettamente plausibile considerate che ci sono dei mostri che non sono affatto vulnerabili a determinati tipi di attacchi e sono molto vulnerabili ad altri ad esempio un golem resiste molto agli attacchi magici e virtualmente invulnerabili alla magia e quindi è probabile che il mago del party non faccia nulla mentre gli altri tre personaggi devono agire al di là del loro normale limite dell'un quarto delle risorse il grado di sfida comunque calcola la difficoltà degli incontri in generale non solo degli incontri in combattimento se il party lungo un corridoio incontra una trappola è probabile che sia il ladro a dover agire principalmente a utilizzare tutte le sue risorse magari aiutato da qualche incantesimo di potenziamento da parte del chierico o del bardo che aumenta le sue abilità cantando mentre il guerriero del party stia indietro senza fare nulla di effettivamente significativo per quell'incontro superato il sesto settimo livello quando i personaggi possono resuscitarsi o reincarnarsi a vicenda relativamente con facilità la vita stessa dei personaggi diventa una risorsa deperibile e quindi possibile che un mostro con grado di sfida pari al livello medio del gruppo uccida uno dei personaggi e lasci sostanzialmente gli altri personaggi in lesi normalmente qualcosa che si evita di fare perché una delle soluzioni più noiose però è perfettamente plausibile per predatori da imboscata il classico mimic trasformato in cassa del tesoro che ammazza il personaggio più vicino e poi viene nel round dopo ucciso dal resto del party che era tutto intorno il fatto che il grado di sfida venga sempre calcolato in base al livello medio in un gruppo standard si porta dietro un paio di problemi nella pratica però li vedremo tra un paio di settimane nel prossimo video per questo video limitiamoci alla teoria ogni volta che il party deve affrontare un incontro voi come master dovete assegnare a quell'incontro un grado di sfida la situazione più semplice che il party deve affrontare un incontro con una singola creatura o una singola trappola in questo caso l'incontro avrà lo stesso grado di sfida della creatura o della trappola come lo trovate riportato sul manuale che state utilizzando se l'incontro prevede multipli della stessa creatura il grado di sfida sale di due ogni volta che il numero si raddoppia se ad esempio un incontro con una singola viverna avrà un grado di sfida 6 un incontro con due viverne avrà un grado di sfida 8 e un incontro con quattro viverne avrà un grado di sfida 10 la stessa cosa vale anche nel caso si tratti creature diverse che abbiano lo stesso grado di sfida se la viverna un grado di sfida 6 fosse accompagnata da un demone babau anche lui con grado di sfida 6 l'incontro sarebbe un grado di sfida 8 in maniera simile è possibile anche gestire i gruppi con gradi di sfida diversi ad esempio due gargoyle entrambi con grado di sfida 4 sarebbero complessivamente un grado di sfida 6 se i gargoyle fossero accompagnati da una viverna il tutto avrebbe grado di sfida 8 quando non è possibile far coincidere esattamente i gradi di sfida normalmente si arrotonda per eccesso ad esempio un incontro fatto da un gargoyle con grado di sfida 4 e una viverna con grado di sfida 6 avrebbe un grado di sfida totale di 7 come se fosse fatto da due creature con grado di sfida 5 se a questi si aggiunge anche un gigante con grado di sfida 8 l'intero incontro avrebbe un grado di sfida 10 come se fosse la somma di due gradi di sfida 8 ve lo avevo detto che questa è matematica nell'esempio ho sempre parlato di creature in combattimento ma ovviamente questo ragionamento si applica a qualsiasi tipo di incontro che possa ledere le risorse del party e quindi a cui è associato un grado di sfida un gruppo di koboldi che cerca di attirare gli avventuieri in un'imboscata spingendoli verso una trappola avrebbe un grado di sfida totale formato alla somma del grado di sfida totale dei koboldi e da quello della trappola normalmente comunque questi calcoli ha senso farli solo quando tra i vari gradi di sfida che formano un incontro non c'è un divario di più di 4 o 5 punti effettivamente se l'incontro è formato da una creatura particolarmente debole il suo impatto sul grado di sfida totale dell'incontro non è così significativo normalmente in questi casi si usa o il grado di sfida più alto tra tutte le creature o se le creature minori sono molte si aumenta di 1 il grado di sfida più alto per indicare che l'incontro è effettivamente un po' più difficile dello standard anche proprio a logica pura se un gigante del gelo a grado di sfida 9 ed è quindi un incontro facile per un gruppo in nono livello un gigante del gelo di grado di sfida 9 accompagnato da due goblin con grado di sfida un terzo non è significativamente più difficile da affrontare anzi è probabile che i goblin muoiano senza avere neanche la possibilità di agire al primo incantesimo ad area del mago diciamo che per questo video è tutto mi sa di avervi dato un bel po' da masticare per imparare bene questo genere di cose se sembra complesso non vi preoccupate è una delle parti più difficili in assoluto da imparare e poi da imparare ad applicare in maniera naturale all'interno del d20 system per quello che riguarda il master diciamo che ci vorranno un bel po' di quest probabilmente ci vorrà qualche anno di masteraggio prima che riusciate a effettivamente fare i calcoli del grado di sfida a memoria e capire quando incrementarlo, quando non incrementarlo, come sommarlo e grosso modo quando imparerete a fare i calcoli a memoria velocemente vi accorgerete che nella pratica questi calcoli sono ancora più complessi di come vi sono sembrati inizialmente ma di questo andremo a parlare poi nel prossimo video del d20 tra un paio di settimane fino ad allora mi piacerebbe sapere se voi avevate già capito come funzionava il grado di sfida come lo utilizzavate, se non lo avevate capito come lo variate voi in base alla vostra esperienza scrivetemi sempre tutto nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video schiacciate il tasto della campanella e iscrivetevi io sono il Master Kai noi ci vediamo al prossimo video ciao